se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e lascia un like presunti poteri magici delle erbe le erbe sono da sempre considerate una riserva di poteri magici che coprono il nostro pianeta fin dall'antichità l'uomo ha scoperto ed utilizzato le energie presenti nella natura per migliorare la propria vita ancora oggi le piante possiedono incredibili poteri la maggior parte dei quali è ancora sconosciuta la maggior parte delle persone tra i vari tipi di piante diffuse oltre 400 di esse possono essere utilizzate per sfruttare il loro potere magico se si desidera preparare un incenso di protezione ad esempio esistono delle piante con proprietà protettive che possono essere utilizzate a tale scopo ma lo stesso vale per l'amore la fortuna i poteri mentali e così via per quanto riguarda l'amore si possono utilizzare nell'incenso i petali di rosa rossa i fiori di lavanda e l'olio di verbena invece per promuovere la salute si consiglia l'uso di incenso mirra rosmarino e olio di tuberosa per attirare la prosperità invece si possono utilizzare incenso sandalo petali di girasole mirra e olio di ginestra se si desidera proteggersi ci si può avvalere d'incenso bacche di ginepro fiori di iperico foglie di alloro e olio di pino infine se si vuole creare un ambiente armonioso si consiglia di utilizzare incenso rosmarino eucalipto e olio di iperico sono solo alcuni esempi di come le piante possono essere utilizzate per sfruttare i loro poteri magici ognuna di esse ha le proprie caratteristiche e specificità che spesso sono parte integrante della cultura di diverse popolazioni di tutto il mondo questi antichi saperi vengono tramandati da generazioni e sono ancora oggi utilizzati in vari campi come la medicina alternativa la magia e la spiritualità è interessante notare come la nostra conoscenza di queste erbe sia ancora parziale e in via di approfondimento molte delle proprietà magiche delle piante sono ancora sconosciute o poco studiate ma con il passare del tempo e con l'avanzare della ricerca scientifica siamo sempre più vicini a svelare tutti i segreti che esse celano la natura ci ha donato questa riserva di poteri magici in modo generoso e da sempre vi sono persone che si dedicano allo studio e all'utilizzo di queste erbe per migliorare la propria vita e il proprio benessere che si tratti di creare un incenso una pozione o un unguento le piante sono sempre pronte ad offrire i loro poteri e a rivelarci i loro segreti le erbe possiedono un potere magico che da sempre affascina l'uomo sfruttare e comprendere appieno queste proprietà è ancora un campo di ricerca aperto e affascinante che ci permette di avvicinarci sempre di più alla conoscenza di questo mondo misterioso e meraviglioso che è quello delle piante grazie grazie